guardia di finanza operazione caramelle due arrestati per corruzione gela commerciante picchiato con una spranga mentre stava rientrando a casa prefettura monitoraggio del comitato per l'ordine la sicurezza pubblica sui dispositivi di vigilanza attivati nel territorio di gela controlli dei carabinieri a gela con il supporto dei militari del nas ben trovati in studio con il nostro telegiornale apriamo con l'inchiesta della guardia di finanza palermo due persone arrestate per corruzione nel calderone dell'inchiesta anche dei lavori eseguiti a caltanissetta il servizio mazzette per sveltire la macchina burocratica della pubblica amministrazione sembra essere la classica vecchia storia di corruzione quella scoperta dai militari della guardia di finanza di palermo che hanno arrestato un imprenditore un funzionario del dipartimento della protezione civile per i quali il gip del capoluogo regionale ha disposto gli arresti domiciliari secondo l'accusa il funzionario regionale in quanto addetto alle procedure di liquidazione in cambio di somme di denaro avrebbe fatto in modo di velocezzare i controlli di propria competenza e altre procedure perché venissero eseguiti una serie di pagamenti di fatture per circa 130 mila euro l'imprenditore in quanto referente di due aziende dili del messinese aveva svolto lavori pubblici commissionati da comuni delle province di caltanissetta e messina dagli accertamenti degli investigatori è emerso che il funzionario avrebbe incontrato due volte l'imprenditore il quale gli avrebbe consegnato il denaro in tre pacchetti lasciati sulla scrivania e presentati come caramelle ora si attende che venga chiusa l'indagine a gela un commerciante aggredito a colpi di spranga mentre stava ringasando sentiamo i particolari un'aggressione barbara perpetrata con violenza feroce quella in cui è rimasto ferito seriamente un commerciante gelese la scorsa notte un assalto improvviso quello subito dall'esercente titolare di una pizzeria che si trova nel centro di gela gli aggressori lo hanno sorpreso mentre stava rincasando gli sono piombati addosso iniziando a sferrare ripetuti colpi di spranga sull'uomo una scena terribile alla quale hanno assistito anche la moglie e la figlia del commerciante che dopo avere sentito le gride i rumori della colluttazione sono accorse hanno poi chiamato i soccorsi sul posto sono arrivati i carabinieri i soccorritori del 118 le condizioni dell'aggredito sono apparse subito serie per via dei colpi alla testa che secondo quanto emerso finora hanno causato all'uomo un trauma cranico i medici hanno disposto il trasporto all'ospedale villa sofia di palermo dove l'uomo è adesso ricoverato in prognosi riservata i militari dell'arma stanno adesso cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e soprattutto c'è da capire quale sia il movente alla base di un gesto del genere monitoraggio sempre a Gela del comitato per l'ordine e la sicurezza il prefetto di calta nissetta dottoressa chiararmenia ha presieduto nel tardo pomeriggio di ieri una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica finalizzata a monitorare la situazione gelese alla seduta oltre ai vertici delle forze dell'ordine ha preso parte anche il sindaco di Gela nel corso dell'incontro il prefetto ha dato atto dell'effettiva intensificazione dei controlli nel territorio gelese disposta all'esito della riunione della scorsa settimana e ha fornito chiare e precise direttive affinché gli stessi siano ripetuti con costanza in una logica strategica volta ad evidenziare la presenza costante dello stato sul territorio nella circostanza peraltro il prefetto ha fortemente auspicato che la comunità gelese reagisca all'attuale situazione collaborando fattivamente con le istituzioni in uno spirito di cittadinanza attiva che vuole vedere i tanti cittadini gelesi onesti e rispettosi della legalità essere parte attiva del sistema integrato di difesa del territorio e restiamo nella città del golfo per i controlli dei carabinieri con il supporto dei militari del nas a Gela nell'ambito dell'intensificazione dell'azione di prevenzione dei reati decisi dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto chiararmenia sono stati effettuati nella giornata di ieri servizi straordinari dai carabinieri del locale reparto territoriale supportati da personale del nucleo antisofisticazioni e sanità di ragusa e dai militari della compagnia di intervento operativo del dodicesimo reggimento mobile sicilia da alcuni giorni a Gela per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio nell'ambito delle attività in particolare sono state sottoposte a controllo due attività commerciali di ristorazione presso entrambe sono state riscontrate irregolarità amministrative relative alla sicurezza alimentare per uno dei due ristoranti è stata anche proposta alle competenti autorità sanitarie la chiusura nel corso delle operazioni le quasi 20 pattuglie hanno controllato 83 automezzi e identificato 107 persone nonché elevato 11 contravvenzioni al codice della strada con il ritiro di una carta di circolazione sono state eseguite in oltre 16 perquisizioni personali e 5 veicolari al termine delle quali è stato rinvenuto un coltello di genere vietato un grammo di hashish e 0,5 grammi di cocaina infine al termine degli accertamenti sono stati segnalati alla prefettura due soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti e all'autorità giudiziaria due persone per guida senza patente e una persona per porto illegale di coltello calta nissetta raid ladresco nella notte in via paladini i particolari amara sorpresa per i proprietari di due auto parcheggiata all'interno di un condominio di via paladini alcuni ladri sono infatti penetrati all'interno del condominio stesso e hanno rubato i fanali delle vetture un furto insolito messo in atto dai malviventi e sul quale sta adesso indagando la polizia gli agenti hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto la denuncia dai proprietari delle auto secondo una prima ricostruzione i ladri si sono introdotti all'interno del condominio e hanno anche danneggiato gli ingressi di alcuni garage saranno ora gli accertamenti degli investigatori della questura a ricostruire il quadro indiziario a grotte arrestati due rumeni per il furto in un'abitazione avevano cercato di approfittare dell'assenza dei proprietari ma il loro piano è andato in fumo in quanto sono stati sorpresi dai carabinieri e dunque per due rumeni di 37 e 31 anni è scattato l'arresto per furto con applicazione degli arresti domiciliari a seguito dell'udienza di convalida secondo la ricostruzione investigativa i due indagati avevano preso di mira un appartamento nel centro di grotte due ladri si erano introdotti all'interno avevano iniziato a rovistare in giro per casa la ricerca di oggetti di valore e denaro iniziando a mettere insieme un bottino fatto di gioielli anche di altri oggetti in quegli istanti però un equipaggio dei carabinieri che stava pattugliando le vie del centro ha notato dei movimenti sospetti e anche che una delle finestre dell'abitazione era aperta e quindi hanno deciso di controllare che fosse tutto a posto ed è stato così che gli investigatori hanno sorpreso i due malviventi entrambi i braccianti agricoli con le mani nel sacco di conseguenza è scattato l'arresto con applicazione dei domiciliari poi confermati come detto dal giudice al termine della convalida sanità affidata al san donato di milano la cardiochirurgia pediatrica di palermo il servizio la cardiochirurgia pediatrica dopo 12 anni torna a palermo grazie all'accordo tra due prestigiose strutture sanitarie del nord e del sud italia oggi è stato firmato nel capoluogo siciliano a palazzo d'orleans alla presenza del presidente della regione siciliana renato schifani e del vice presidente del gruppo san donato camel gribi il contratto per l'affidamento triennale con eventuale rinnovo di 24 mesi del servizio di assistenza medica infermieristica e consulenza medica specialistica alla nuova unità operativa complessa di cardiochirurgia pediatrica dell'arnas civico di cristina ben fratelli una forte integrazione tra la prima struttura nazionale di ospedalità privata convenzionata con l'ospedale civico di palermo avremo una cardiochirurgia infantile di eccellenza crescerà attraverso anche la collaborazione con il gruppo san donato la notizia estremamente positiva è che anche tutti i bambini del mezzogiorno verranno avviati presso la nostra struttura da parte del partner privato è una risposta importante che diamo come sanità a tutta quella fascia di dolore dei genitori anche dei bambini affetti da problemi cardiochirurgici palermo torna ad essere competitiva a firmare il contratto il direttore generale dell'arnas civico roberto colletti e l'amministratore delegato del policlinico san donato sarà mariani presenti tra gli altri anche il segretario generale della presidenza della regione maria mattarella e il responsabile del nuovo reparto alessandro giamberti l'obiettivo racconta il direttore generale dell'arnas civico roberto colletti e creare un reparto con professionisti di grande esperienza impegno da parte dell'ospedale civico è un impegno volto a bloccare i viaggi della speranza a far sì che la gente sicuri dove c'è dove ha una propria casa dove ha i propri affetti diciamo a guidare la nuova unità operativa che dovrebbe entrare in funzione entro la metà del 2023 sarà alessandro giamberti già allievo del professore carlo marcelletti grande successo ma soprattutto un grande impegno in questo momento dobbiamo dimostrare che sarà un successo noi ci metteremo tutto l'impegno possibile immaginabile tutta la nostra esperienza queste cose le abbiamo fatte in sud america in vari parti d'europa e in africa e quindi riteniamo che saremo in grado di farlo anche qua a palermo come previsto dal bando infine il sandonato avrà il compito di fornire una propria equip medico infermieristica di altissima professionalità destinata a formare le figure mediche tecniche infermieristiche dell'arnas che poi dovranno subentrare nel reparto con specifica procedura di selezione e vediamo le celebrazioni per la giornata dell'unità d'italia e delle forze armate questa mattina lungo il viale regina margherita dinnanzi al monumento ai caduti ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di celebrazione della giornata dell'unità nazionale delle forze armate la manifestazione è iniziata con il tradizionale schieramento del picchetto d'onore interforze presso il monumento ai caduti di viale regina margherita cui ha seguito la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione della corona da loro da parte del prefetto chiara armenio al sacello dedicato ai caduti la manifestazione che si è svolta davanti alla presenza delle massime autorità civili militari e religiose e anche ad una rappresentanza delle scolaresche locali alle ore 18 presso il monumento ai caduti la maina bandiera per la conclusione del programma delle celebrazioni simbolo sicuramente un simbolo di di ricordo di ricordo dei caduti della guerra che si sono battuti hanno perso la loro vita giovani ragazzi perché cosa per la nostra libertà che a volte diamo per scontata ma scontata non è quindi dobbiamo avere cura di questa libertà e di questa situazione di pace in cui viviamo teniamo anche presente che tante forze dell'ordine tanti uomini delle forze dell'ordine hanno perso la loro vita per difendere i principi di libertà di democrazia nel nostro paese simbolo del 4 novembre è elevato perché uno dei momenti di riconoscimento della nazione dello stato attorno in particolare alla propria unità rappresentata dalle forze armate che la difendono noi siamo forza civile ma con e insieme alle forze armate siamo il sistema diciamo di sicurezza noi la risicurezza civile e loro in parte come l'arma ai carabinieri la finanza anche la sicurezza civile economica e poi la sicurezza della nostra del nostro stato in un in un contesto che anche quello complesso di questo momento è in un contesto europeo perché non dimentichiamoci e facciamo parte della comune casa europea è il 4 novembre la festa delle forze armate ma soprattutto la festa dell'unità nazionale e in questo momento di particolare difficoltà internazionale con la guerra in ucraina e soprattutto con la guerra energetica per il valore che vale che è più pesante in assoluto della pace quindi noi sulla pace è giusto che diamo il nostro contributo il nostro minimo contributo da ente locale lo diamo con una presenza della bandiera della pace sul balcone principale di palazzo del carmine ma soprattutto il prefetto ricordava il bene comune il simbolo è per tutti noi italiani ricordare gli anni in cui molti italiani sono deceduti per difendere il suolo della patria è un appello di cuore è quello di evitare che si ripetano queste cose nel mondo intero non solo in italia nel mondo intero 4 novembre è una festa importantissima anche perché è giusto che ricordarla perché molte persone hanno dato la vita perché affinché noi potessimo giochile di quello che hanno fatto loro ed è un ed è un dovere essere qui in questo momento presenti schierati con i simboli distintivi dei vari battaglioni di appartenenza caltacqua fa sapere in una nota diffusa nelle ultime ore che il fornitore di sovrambito siciliacque ha comunicato stamattina di aver dovuto interrompere la fornitura idrica ai serbatori di caposoprano e montelungo per effettuare una riparazione urgente in modo da risolvere una criticità che ha determinato una perdita in strada nel territorio del comune di gela e per effetto di ciò caltacqua ha proprio a volto dovuto sospendere la distribuzione programmata per oggi alle utenze alimentate dai serbatoi di montelungo e caposoprano la nota si conclude così caltacqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili rifiuti la dasti replica a un sindacato il servizio è lisci ovvero il libero indipendente sindacato confederale italiano a diffondere una nota alla stampa sottoscritta dal segretario aziendale lisci d'asti caltanissetta carmelo mario lipani e dal segretario generale provinciale lisci caltanissetta lorenzo rosario petix nel documento sono elencate tutta una serie di problematiche aziendali che riguarderebbero un non sereno rapporto che intercorrerebbe tra dasti di catania azienda che ha in gestione l'appalto di igiene ambientale nel comune di caltanissetta e i dipendenti dell'azienda stessa sempre secondo il documento dell'organizzazione sindacale i dipendenti sarebbero costretti ad operare in condizioni complesse facendo poi una dettagliata lista delle problematiche criticitari da risolvere dalla mancata corresponsione degli stipendi in tempi previsti dalla mancata organizzazione del lavoro che servirebbe per svolgere al meglio le attività di servizio come fino al mancato aumento del parco mezzi e delle unità di lavoratori che secondo i sindacalisti sarebbero da potenziare con nuove assunzioni abbiamo così contattato la Dasti che ha prontamente replicato in merito alla questione riportata dall'organizzazione di sindacali lisci e l'amministratore unico di Dasti Rossella Pezzino de Geronimo tramite il proprio ufficio stampa ha risposto che rileva e precisa che i funzionari che sono delegati alle trattative sindacali hanno piena autonomia decisionale nell'ambito delle direttive degli indirizzi strategici impartiti dal management societario e dice inoltre pertanto contesta perentoriamente le infondate accuse di tergiversare o temporeggiare nei tavoli di trattativa sindacale per quanto riguarda le asserite criticità del cantiere di Caltanissetta contesta che non siano stati corrisposti tempestivamente gli stipendi correnti ai lavoratori addetti alla commessa in ordine alle altre supposte problematiche l'amministratore unico osserva, continua ancora la risposta, che non sussistono inadeguatezze o carenze di risorse umane e materiali destinati alla gestione dell'appalto. La società, rendendosi sempre disponibile a discutere con le parti sociali e l'organizzazione del lavoro, ribadisce il principio dell'autonomia decisionale nelle scelte aziendali poiché le responsabilità gestionali rientrano nella sfera decisionale dell'imprenditore ed infine conclude. L'amministratore unico ribadisce la piena disponibilità a proseguire le trattative con l'organizzazione sindacale lisci per discutere di ogni eventuale proposta proveniente dalla stessa organizzazione sindacale. E sempre in tema di rifiuti, la Dasti ha reso noti i dati dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale. Dal report relativo alla settimana appena trascorsa, dal 24 al 29 ottobre, emerge il dato di 22 conferimenti di rifiuti regolari contro i 15 non conformi, su un totale di 37 casi. Gli agenti della Polizia Municipale di Caltanissetta, con il supporto degli operatori Dasti, hanno eseguito gli accertamenti in via Savarese, via Bissolati, via Libertà, via Cavour, via Redentore, via Generale Cascino e via Le Trieste. Fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta, sottolineano dalla Dasti, il piano dei controlli ad opera della Polizia Municipale, con il supporto degli operatori Dasti, proseguirà ancora. Case popolari in 300 hanno fatto domanda. Sentiamo i particolari. Sono state pubblicate qualche giorno fa le graduatorie provvisorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a seguito del bando integrativo numero 2 del concorso generale numero 3 emesso dal Comune lo scorso anno. Malgrado ci sia una forte emergenza abitativa, non c'è una nuova edilizia in costruzione, quindi tutte le case che vengono assegnate, c'è l'idallo IACP e le assegna il Comune, sono tutte case di risulta. Malgrado questo devo dire che rispetto all'ultima graduatoria sono state assegnate ben 59 alloggi, gli ultimi 10 sono stati quelli del progetto piloto della Providenza, quindi abbiamo attinto un buon numero di case da quelli dell'ultima graduatoria. Più di 300 le stanze arrivate al Comune, di queste 235 sono state inserite nella graduatoria generale, 71 invece quelle escluse. In questo caso agli interessati vengono dati 30 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per presentare eventuali opposizioni in carta semplice all'ufficio protocollo del Comune di Caltanissette in corso Umberto I numero 134, indirizzata all'ufficio assegnazione alloggi popolari. È una graduatoria generale che però all'interno di queste graduatorie ci sono altre categorie tipo famiglie monoparentali, ultrasessantenni oppure giovani coppie, infatti le ultime, quelle della Providenza erano destinate a giovani coppie, quindi con pochi figli e hanno attinto da quella graduatoria. Ripeto, sicuramente non c'è una nuova, non ci sono case nuove, però tutte quelle che vengono liberate, lo IACP le esistema quando ci sono i finanziamenti naturalmente e poi il Comune le assegna. Tutela ambientale, i rappresentanti del WWF incontrano il prefetto. La tutela ambientale sul territorio nissano è stata oggetto dell'incontro tra il prefetto di Caltanissette, Chiararmenia, i rappresentanti del WWF Italia, Domenico Aiello, responsabile della tutela giuridica della natura e Gian Paolo Oddi, coordinatore nazionale Guardie volontarie. Vari temi affrontati dall'educazione e sensibilizzazione della collettività alla vigilanza e controllo del territorio, illustrata anche l'attività dell'associazione nella provincia nissena svolta dalla stessa, in attuazione di quelli che sono i principi e i valori sanciti dall'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, anche nell'interesse delle future generazioni. L'incontro di oggi in prefettura è stato certamente positivo, siamo molto soddisfatti, abbiamo incontrato un prefetto veramente sensibile, veramente attenta a quelle che sono le problematiche di questo contesto territoriale, sociale e anche le problematiche ambientali che afferiscono a tutto il mondo della tutela dell'ambiente e degli animali. Quindi ringraziamo alla prefettura per la sua sensibilità, per la disponibilità, per l'impegno che a tutto tondo garantisce nei confronti di questa terra e auspichiamo che il dialogo anche con la prefettura ma con tutte le realtà territoriali, istituzionali, associative, eccetera, di questo territorio sia sempre più ampio perché solo stando uniti verso un unico obiettivo che è quello della legalità, la tutela dell'ambiente coincide perfettamente con la tutela della legalità, si possono raggiungere risultati molto molto importanti. Nel Nisseno il WWF opera da oltre 40 anni e nel tempo è diventato il punto di riferimento del territorio per chi si occupa di tutela dell'ambiente, della natura e della biodiversità. L'importanza del controllo del territorio è fondamentale perché la Sicilia è la prima isola e quindi la prima parte dell'Italia che è interessata dalla migrazione dei migratori subsahariani e del nord Africa che migrano verso le rotte del nord Italia e del nord Europa. È fondamentale la necessità di implementare il controllo del territorio. Un incontro proficuo quindi e la prospettiva di un percorso conniviso. I tinerari di legalità, prossimo appuntamento del progetto dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Caltanissette ed Enna. Il Museo del Mito di Enna e il Castello di Lombardia saranno le mete da visitare durante il prossimo appuntamento degli tinerari di legalità, il progetto dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna UEPE di Caltanissette ed Enna, realizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale di Promozione Turistica in Nersisili. Sabato 5 novembre 2022 era prevista inizialmente un'escursione alla riserva naturale orientata di Monte Altesina nel territorio di Enna, ma le condizioni meteo hanno inciso sulla possibilità di realizzarla, optando per un programma diverso. Si avvicina dunque il quarto appuntamento dell'iniziativa, che ha lo scopo di ricreare legami e favorire la vita comunitaria, si legge, attraverso un percorso formativo di sensibilizzazione sulla legalità per gli utenti in carico all'UEPE, con eventi, visite guidate ed escursioni nei territori dell'Ennese e del Nisseno. E ancora si precisa, la natura e l'arte in tutte le sue forme possono rappresentare infatti un potente catalizzatore di sviluppo sociale rigenerante, anche per l'acquisizione di competenze spendibili nel settore turistico e ambientale. Con gli incontri svoltisi tra ieri e stamattina si è concluso il ciclo di visite ed istruzione al Polo Laboratorio Acque Potabili di Caltacqua, che ha visto protagonista nelle ultime settimane una sessantina di alunni dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Russo di Caltanissetta. E' quanto si legge in un comunicato di Caltacqua. Stamattina a svolgere una meno convenzionale lezione tra provvette, misuratorie e sofisticate apparecchiature sono stati gli alunni della Quarta B tecnologico, guidati dalla professoressa Felice Aquilina e dal professore Giuseppe Messina. Il giorno precedente la stessa esperienza aveva visto invece coinvolti i ragazzi della Quarta A tecnologico coordinate dalle docenti Valentina Pistis e Maria Pia Burò. In entrambe le giornate ad accogliere gli studenti anche la responsabile del Laboratorio Acque Potabili, Ilaria Milazzo. Orto sociale al quartiere Angeli, iniziativa di Lega Ambiente. Sentiamo i particolari. Comincia a prendere forma il progetto presentato da Lega Ambiente Caltanissette che si è classificato tra i più votati dai cittadini per il bilancio partecipativo 2021. Proposta progettuale che si inseriva nell'area tematica cura e bellezza del centro storico. Si prevede infatti la realizzazione di un orto sociale proprio vicino al campo di bocce del quartiere Angeli. Tra gli obiettivi del progetto quello di costituire uno spazio vitale dove sentirsi a proprio agio, conversare, passeggiare, fare giardinaggio, piantare, seminare, sporcarsi, divertirsi, aiutarsi, ascoltare, leggere, trascorrere ore. E ancora riqualificare il territorio, favorire la socializzazione e l'integrazione tra cittadini e sensibilizzare ed educare uno stile di vita ecosostenibile. Un progetto che potrà essere sviluppato grazie ad una rete con altre realtà del territorio, così come spiega lo stesso presidente di Lega Ambiente Caltanissette, Vocigna. Oggi abbiamo fatto l'aratura, stiamo dissodando il terreno, lo stiamo preparando. Ma è un progetto che parte dal basso e con una rete vasta che comprende la comunità, della chiesa di San Domenico, la scuola, il comune chiaramente di Caltanissette, la sovrintendenza, diversi attori del territorio per far sì che questi lotti che realizzeremo devono essere a servizio delle famiglie in primis che abitano nel quartiere. E poi i lotti possono anche essere utilizzati da associazioni al terzo settore, dalla scuola stessa, dalla comunità della chiesa. Però appunto questi passaggi saranno fatti insieme a tutti gli attori, tutte le decisioni verranno prese da questa rete, dovrà capire anche perché bisognerà mettere mano al modello di gestione, quindi da una parte realizzeremo l'orto e lo stiamo iniziando a fare, ma ripeto, i passaggi noi contiamo di essere attivi nella primavera del 2023. E quindi pian pianino ci dobbiamo portare per essere a marzo pronti, però tutti i passaggi che faremo saranno fatti da tanti attori che ci supporteranno in questo percorso. L'idea è tirare fuori da questo spazio agricolo almeno 30-40 lotti, da 40-50 metri quadrati ciascuno, serviti da acqua, e dare la possibilità con la gestione di poterli affidare a famiglie o ad associazioni, come dicevo, con un regolamento che dovrà essere seguito sulle tipologie da poter piantare, quali orticole, quali altri piantine si possono mettere a dimora, se prevedere o meno fiori, piante da fiori. Queste sono tutte decisioni che devono essere realizzate, ripeto, da questa rete. E passiamo allo sport con la serie D di calcio. Reduce dalla seconda vittoria esterna al provinciale di Trapani, la San Cataldese si prepara ad affrontare l'impegnativo derby contro il Ragusa al Valentino Mazzola. Fra le mura amiche, i Verdi Amaranto non hanno ancora assaporato la gioia della vittoria nelle prime nove giornate del campionato di serie D. Il Ragusa attualmente ha una sola lunghezza dalla zona playoff e senza dubbio una delle formazioni più temibili nel girone I, ma l'undici visto all'opera in terra trapanese lascia ben sperare i tifosi Verdi Amaranto. Intanto, in una nota, la San Cataldese fa sapere che a seguito della richiesta di dimissioni del direttore sportivo Cammarata per approdare in società che militano tra i professionisti, la società non può che accettare la rescissione consensuale, augurando importanti traguardi e ringraziando il direttore per l'impegno e la professionalità profusa per la società e i nostri colori. E andiamo ora a vedere il quadro completo delle partite della decima giornata. Cani Cattivi-Bonese, Castrovillari-Santa Maria, Agirreale-San Luca, Sant'Agata-Mariglianese, Cittanova-Catania, Lamezia-Licata, Paternò-Locri, Realaversa-Trapani e appunto San Cataldese-Ragusa. Restiamo sempre in tema calcio, andiamo in eccellenza con la Nissa impegnata in uno dei due anticipi del campionato sul campo del Cus Palermo. Fischio d'inizio alle 14.30 di sabato. L'altra partita, nello stesso pomeriggio, si giocherà a Castellammare, dove i padroni di casa affronteranno l'oratorio di Marineo. Una gara ampiamente alla portata per la squadra biancoscudata, che dovrà vedersela contro la terz'ultima in classifica, a quota 6 in condominio con oratorio e resuttana. La Nissa punterà dunque alla terza affermazione stagionale. Andiamo a vedere anche il calendario delle partite della nona giornata di eccellenza. Cus Palermo Nissa, Castellammare Oratorio Marineo e gli anticipi, poi Enna Mazzara, Gela Casteldaccia, Profavara Parmonval, Don Carlo Leonfortese, Mazzarese Acragas e resuttana Sciacca. Ancora calcio si va verso la quinta edizione del Memorial Territo e Savoia. Anche quest'anno si terrà il Torneo dell'Immacolata, dal 4 all'8 di dicembre. Quest'anno ricorre il quinto anno del Memorial Territo a Savoia, che si svolgeranno ai campetti Lombardo. Le squadre saranno divise per categorie, che andranno dagli esordienti 2010-2011, i Pulcini 2012-2013, Primi Calci 2014-2015 e Piccoli Amici 2016-2017. Le iscrizioni entro e non oltre il 20 di novembre. Dal 4 all'8 faremo questa Kermes, dove avrà delle particolarità in più rispetto al passato, dove ci sarà anche un torneo dedicato alle ragazze dell'Under-12 e dell'Under-15, dove saranno coinvolte tutte le categorie, dagli esordienti ai Pulcini, ai primi Calci e ai Piccoli Amici, dove ci saranno la presenza di quasi tutte le province al torneo con le squadre partecipanti. Lo spazio, anche se abbiamo tre campi in erba sintetica, è piccolo. Probabilmente per quello che sta arrivando dovremmo chiedere aiuto al territorio vicino, sia a San Cataldo che anche al Pian del Lago 1, al Marco Tomaselli, che speriamo di poter anche lì inaugurare con questo torneo. Passiamo adesso al volley femminile. In serie B2 l'Alba Verde e Caltanissetta torneranno a giocare in casa sabato alle 18 contro la Fidelis Torretta. Le ragazze nissene, che nel turno precedente sono state sconfitte in terra calabra, affronteranno la Fidelis Torretta, che condivide il primo posto proprio con l'Alba Verde, insieme a Gioio Saionica e Crotone. Partite difficili per Noemi Spene e compagne, chiamate ad una grande prova di carattere. E andiamo quindi a vedere il programma delle partite della quinta giornata. Stefanese-Gioio Saionica, Alba Verde-Fidelis Torretta, Cuscatania-Comiso, Crotone-Planet, Valle-Ialus, Zafferana-Saracena e Ricina-Region. Bene, per questa edizione è tutto. Vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Grazie per essere stati con noi e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo. La giornata di sabato si presenterà ancora instabile al centro-sud Italia per un minimo di bassa pressione che a piccoli passi si muoverà verso lo Ionio e la Grecia. Interesserà però ancora il medio-basso Adriatico e le regioni del sud. Al nord invece torna un po' di alta pressione. Nel dettaglio possiamo vedere le schiarite a tratti anche ampie sulle regioni settentrionali, molte nubi invece al centro-sud. La mappa delle precipitazioni con piogge e rovesci sparsi, specie al sud, sul basso Tirreno, il medio-basso Adriatico, fenomeni localmente anche intensi. In sintesi la mappa dell'Italia con il tempo che sarà incerto e temporalesco su molte aree centro-medidionali, temperature in netto calo al sud, i venti ruoteranno anche qui di maestrale. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trevi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno Centrale, Corso Umberto Servizio notturno Centrale, Corso Umberto Servizio di Pinot Servizio di Pinot Grazie.